ciao a tutti da roberto vezzoli e da beretta benvenuti nel mondo del tiro dinamico sportivo che cos'è il tiro dinamico sportivo shotgun è una disciplina sportiva associata al coni che insegna nella massima sicurezza il giusto compromesso tra velocità e precisione nell'ingaggio di bersagli multipli cosa serve per praticare questo sport serve un fucile calibro 12 o 20 semi automatico o a pompa veloce affidabile preciso con poche piccole personalizzazioni abbiamo bisogno dell'arma della munizione di una buffetteria dedicata di un timer e protezioni visive e acustiche questo è il primo episodio di un percorso che faremo insieme per conoscere meglio il mondo del tiro dinamico sportivo shotgun alla prossima